A tre anni di distanza dal terremoto che ha sconvolto l'Emilia, Radio Bruno ricorda il tragico evento con lo speciale Teniamo Botta. Venerdì 29 maggio ore 21 su Radio Bruno TV, il concerto con i protagonisti della musica italiana. Modà, Emma, Francesco Renga, Marco Mengoni, Nomadi, Paolo Belli e tanti altri artisti insieme sul palco per la raccolta fondi in favore della ricostruzione. Speciale Teniamo Botta per non dimenticare. Venerdì 29 maggio ore 21 su Radio Bruno TV, sul digitale terrestre canale 683 per l'Emilia Romagna e 617 per la Toscana. Noi teniamo Botta!